La direzione del Gommi di Reggio Calabria di fronte al notevole incremento di casi positivi riscontrati in questi ultimi giorni che si traducono in un incremento dei ricoveri lancia un appello tramite un comunicato stampa, non abbassiamo la guardia nei confronti del rischio di contrarre il Covid-19 o di contrarlo nuovamente. Il problema è sempre lo stesso, le procedure di degenza riguardanti i pazienti Covid sono tali da comportare una diminuzione dei posti letto necessaria a trattare tutte le altre patologie. A ciò si aggiunga anche il personale ospedaliero che è soggetto a positività e quindi ad astensione del lavoro su organici già sottodimensionati ed ulteriormente decurtati per la fruizione delle dovute ferie estive. Come è noto le strutture ospedaliere della Regione non hanno capacità infinita di ricovero e pertanto occorre che tutta la popolazione mantenga o per meglio dire assuma nuovamente quei comportamenti sociali tenuti all'inizio della pandemia e cioè utilizzo della mascherina anche al di là di quanto oggi previsto dalla norma evitare assembramenti e soprattutto continuare a igienizzare le mani. C'è poi il nodo della campagna di vaccinazione. Infine, conclude la nota della direzione delle gomme di Reggio Calabria, si sollecitano quanti non si sono sottoposti alla quarta dose con scelerità in particolare i soggetti fragili. Se è vero che l'ultima variante è meno aggressiva sotto il profilo della severità della sintomatologia, essa è molto più contagiosa delle precedenti. solo comportamenti anti contagio corretti potranno permettere di coadiuvare tutti gli operatori sanitari nella tutela della salute collettiva. Nel ringraziare per la sensibilità con cui sarà accolto questo appello, la direzione del gomme conclude, aiutateci ad aiutarvi.